Guarda, ci sono dei programmi interessantissimi. Ma ci saranno anche? Ma non si vede, non si vede più ciò che di sera si vede. Beh sì, bisognerà decidersi a chiamare l'antennista. Ma Pina, ma che dici? Ormai ci sono io a casa, no? I tuoi guai sono finiti. Ehi Pina, com'è che si sale su sul tetto? Ma no, ci vuole un giovane. Chi? Volevo dire un tecnico. Va bene, sta a sentire Pina, non aver paura, non c'è problema. Tu, mettiti lì, stai tranquilla. Io vado su, tu mi avvisi quando l'immagine è perfetta, hai capito? Io vado sopra, chiaro? Attento Ugo! Chi arriva di lì? Scendi lì qua, eh? Scendi il farbato! Non ti ha possesso? Eccola qui, ti do una sassata che... Mancato! Vai via! Vai via! Vedi lì! No, 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 no! Oh, no! Dove? No! Oh, no, no, no! No! Via via, via! No! No! Cazzo! Viva! Viva! Formate in... La pubblicità... Adesso va meglio, Ugo! Viva, che faccio? No! No! E' il settore attraverso il quale... No! No, Ugo, no! Ma no! No, Ugo, no! Ancora un pochino, Ugo! Perfetto! Bravo, Ugo! Ugo! Sous-titrage ST' 501